Così come anticipato, nelle scorse settimane hanno preso il via le procedure per le assunzioni all'ASP 7. Il settore risorse umane dell'ASP di Ragusa ha reso noto che sono stati spediti circa 80 telegrammi per l'assunzione e copertura di posti vacanti di infermieri attingendo alla graduatoria dell'ultimo concorso espletato. Parte dei telegrammi portano la data del 7 agosto con la firma del precedente manager Maurizio Ricò, mentre gli altri sono stati spediti dopo l'insediamento del nuovo commissario Salvatore Lucio Ficarra. Sono stati inviati anche i telegrammi per l'acquisizione di disponibilità all'assunzione da parte dei dirigenti medici per i vari presidi ospedalieri attingendo dalla graduatoria esistente del pubblico concorso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di 7 posti vacanti e disponibili. La copertura di questi posti servirà in particolare per garantire l'assistenza nel servizio emergenza strategico nelle fasi assistenziali di un ospedale. Il manager Ficarra ha anche adottato la delibera che pone in posizione di decomando di entrata la dottoressa Maria Abate o Torino Laringoiatra con un incarico annuale a partire dal prossimo 1 settembre.